Il primo dei miracoli un segno di benevolenza verso il matrimonio, ma non solo. All'Angelus, in una piazza San Pietro soleggiata e gelida, Papa Francesco ha riflettuto con la folla sul Vangelo delle Nozze di Cana, proposto dalla liturgia domenicale. Aver donato agli sposi, su indicazione di sua madre, il vino più buono di tutta la festa è certamente da parte di Gesù una benedizione, che dimostra, ha affermato Francesco, come l'amore tra l'uomo e la donna sia una buona strada per vivere il Vangelo, per incamminarsi con gioia sul percorso della santità. Quell'acqua tramutata in vino, ha proseguito il Papa, è il segno del sangue di Cristo, che attraverso i sacramenti ci permette di assaporare la misericordia infinita di Dio. Per questo, ha osservato il Papa, il miracolo di Cana non riguarda solo gli sposi, ma ogni persona umana chiamata ad incontrare il Signore come sposo della sua vita. Il racconto dalle nozze di Cana ci invita a riscoprire che Gesù non si presenta a noi come un giudice pronto a condannare le nostre colpe, né come un comandante che ci impone di seguire ciecamente i Suoi ordini. si manifesta come salvatore dell'umanità, come fratello, come il nostro fratello maggiore, figlio del Padre. Si presenta come colui che risponde alle attesse e alle promesse di gioia che abitano nel cuore di ogni di noi.